Berlusconi Berlusconi infatti prima passa dietro a Obama facendo finta di niente Va infatti dal fotografo ufficiale italiano, quello con la fascia rossa al braccio e come vedete dalla mimica gli dice di fargli una foto Ecco poi che si avvicina ad Obama, mano sulla spalla Come stai? How are you? gli dice il presidente americano col pollice alzato Fine, bene risponde Berlusconi Grazie, siamo in grado di dirvi e di farvi sentire cosa si sono detti Io ho una nuova maggioranza, dice Berlusconi ad Obama Io ho una nuova maggioranza E con questa maggioranza voglio fare la riforma della giustizia che per noi è fondamentale perché noi abbiamo la dittatura dei giudici di sinistra Ascoltate Obama si è limitato ad ascoltare Berlusconi annuendo La Merkel e Sarkozy si guardano come per chiedersi il motivo di quel colloquio bilaterale non previsto che ritarda l'inizio dei lavori